nonostante tutto io non ci ho creduto io ho detto finché non vedo i carabinieri qua davanti ai miei occhi io non ci credo è un troll sicuro un troll e infatti sono molto diffidente e poi posso dire una cosa tanto quattro non c'è mi sono affezionata di più ai quattrini che a quattro chiediola alla zia Wentes come si chiama no chiediola non puoi proprio